Oh no, oggi non riuscirò a andare alla parata, ho ancora a pulire tutto il riflettore. Come farò ad andare alla parata senza un vestito? Che fatica, speriamo che Anastasia e Ginover fanno ogni giorno qualcosa da fare. Generella, hai finito di spazzare il riflettore? Uff, sì, ora posso andare a prepararmi per la parata. La parata? Ma c'è ancora da fare il salone. Le cammerete? Le cammerati di maschi? I bañire di femmini? I bañire di maschi? Io lo chiamo alla parata. Oh no, povera me, dovrò spiegarmi tantissimo. I banchi dei passi, le camerate, i banchi delle femmine, le camerate, il refettorio. Non è che mancherà anche l'ambiente, non ce la farò mai. Ho trovato, ho trovato! Abbiamo una nuova soluzione per te. Siamo a vedere una fatta su una marina. E il superato di tuo colè. Grazie, Lucia. Fatta su me, Morina! Aiutaci tu! Ta-tan! Eccomi qui! E' peccato, sarò anche la scuola del mio Morino, ma ho dimenticato la panchetta magica. Come facciamo? E noi non faremo. E chiameremo gli uccellini e costruiremo qua il vestito. Uccellini, venite a darmi una mano, veloce! Ho trovato, ho trovato il vestito fontiquato. Ma se noi ci diam da fare, si può rimodernare. Con un bel nastro intorno, e nel punto al giorno, potrà la festa andare, divertirsi e ballare. E sarà tra tutti quanti la più bella. Se ti svelti ad aiutare, per la festa cenerella, sempre messa la più bella, sudiamoci da fare. Io lo taglierò con le forbici. E io lo cucirò. Ecco qua. Questo è il lavoro da donne. Voi cercate dei merretti. E faremo un bel vestito cenerella.